Salve a tutti! Oggi abbiamo qui un ospite molto particolare, Nicoletta Todesco. Io devo dire che da tantissimi anni faccio corsi in Italia e questi corsi mi hanno permesso di conoscere alcuni tra i massimi docenti che ci sono in giro e uno tra questi corsi mi ha permesso di conoscere Nicoletta Todesco. Nicoletta Todesco mette tantissima energia, tantissima forza e soprattutto in un ambito molto interessante, l'ambito dell'espressività di se stessi, l'ambito della comunicazione. Nicoletta esprime tantissimo e quindi diciamo io oggi voglio presentarvela, voglio presentarvela anche perché questo incontro che ho avuto dopo tanti anni con Nicoletta non finisce qui ma non vi posso dire di più di quello che vi sto dicendo in questo momento. Allora chiedo semplicemente, voglio chiederti un attimo Nicoletta, sappi che nella nostra mailing list abbiamo delle persone che sono interessate alla comunicazione, delle persone che sono interessate all'ipnosi, delle persone che sono interessate alla PNL, persone interessate al coaching. Quindi abbiamo una serie di persone comunque che sono interessate a crescere, che sono interessate ad andare avanti, che sono interessate un poco a sviluppare se stessi e ovviamente anche un po' di persone interessate alle tecniche mie personali che diffondo, tipo il mesmerismo e altre cose. Ma dimmi un attimo, di cosa vuoi parlare, che così diamo qualcosa in più a tutte le persone che ci stanno incontrando in questo momento? Sai che sono spontanea? Fammi tu una domanda perché tutto quello che... Allora nei confronti della comunicazione, ad esempio dell'intenzione, perché una cosa interessante è questo, perché molti vedono ad esempio i video che faccio e dicono ma come ti metti mentalmente? E io gli dico ma guarda devi avere intenzione. Allora io gli dico ma intenzione che significa? Beh, ovviamente l'intenzione la devi fare prima, non è che la fai nel momento. E allora com'è che si crea intenzione? Ecco, lascio un po' di spazio a Nicoletta, così puoi parlare un attimino. Sai una cosa che io dico sempre nel potere dell'intenzione? Che le persone di solito quando comunicano sono talmente prese dal cosa devono dire, cosa mi viene detto, che non sono presenti in loro. E quindi farsi le domande, sai, la domanda è uno degli strumenti più importanti. Si diceva nell'antichità chi domanda comanda. Io di solito quando inizio qualcosa penso cosa voglio lasciare? Cosa voglio lasciare a queste persone? Qual è la mia intenzione? Cosa voglio a livello concreto dare loro? E quindi mi visualizzo proprio quello che voglio lasciare. Chiudo gli occhi e sento, vedo, ascolto, sento proprio dentro il cuore, l'anima. Sai che abbiamo tre cervelli, no? Abbiamo tre centri e tre centri con i neuroni. Abbiamo, mi ha detto un cardiologo, dai cinquanta ai centoventimila neuroni a seconda da varia da persona a persona sul cuore e tantissimi neuroni anche sullo stomaco. Quindi integriamo i tre centri. Integriamo i tre centri e pensiamo cosa voglio lasciare al mio interlocutore? Qual è la mia intenzione? Cosa voglio che gli rimanga? Così non parlo solo per me stesso ma faccio un passo oltre che mi permette di. Un'altra cosa importante, Marco, tu mi hai citato la comunicazione, sai cos'è anche? Il capire quanto sia importante nella comunicazione andare oltre i non detti, l'avere il coraggio di esprimere ciò che non funziona, ciò che non va, chiudere le porte e non avere debiti con ciò che ci fa male. Cioè ci sono delle matriosche nella comunicazione, nella leadership bellissime e anche qui vedi l'intenzione nel non detto. A volte noi pensiamo che ci costa meno fatica a lasciar perdere che andare a intervenire in qualcosa che non va. In realtà nel tempo costa più fatica andare a recuperare ciò che non è andato. Adesso l'ho spiegato in modo un po' veloce ma non so se è chiaro. È chiarissimo. Quindi imparare delle strategie che ci consentano di essere presenti nella comunicazione, presenti nell'intenzione, aumenta la nostra leadership, aumenta come dicevi tu la nostra fascinazione ed è bella la nostra unione da sempre. Sai perché a livello professionale è bello esserci ritrovati perché in modi diversi, con strategie diverse, arriviamo allo stesso nucleo che è l'essenza dell'essere umano. L'essere come dei raggi laser che va al nocciolo e va al cuore del proprio carisma. È un po' questo che ci contraddistingue. Infatti tra l'altro su carisma e su questi concetti di cui ha parlato Nicoletta diremo ancora qualcosa prossimamente. C'è una sorpresa di cui però adesso non posso dire niente di più e rimanete semplicemente a seguire le prossime dirette e i prossimi incontri. A presto. Grazie. Ciao a presto. A presto a tutti. A presto. A presto.